I tempi tecnici non ci sarebbero più, il sipario si abbassa, la raccolta di firme per lo scioglimento del Consiglio Comunale di Taranto va in archivio. I 16 consiglieri che si sono recati dal Notaio Monti per apporre la propria sigla, appartenenti a PD, Movimento 5 Stelle, Verdi, Una strada diversa, Demos, Una città per cambiare, Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Svolta Liberale, avevano un comune obiettivo, completare il documento il prima possibile per fare in modo che l'intera procedura si completasse entro il 24 febbraio, termine ultimo per chiudere la consigliatura e andare a votare a giugno assieme a Bari e Lecce. La giravolta della consigliera Bate di Taranto senza Ilva, che ha deciso all'ultimo momento di far mancare l'ultima firma necessaria, ha vanificato il tentativo delle opposizioni. Anche la ricerca di un diciassettesimo firmatario tra le file della maggioranza non ha sortito esito. Adesso, sottolineano i consulenti legali, non ci sarebbero più i tempi per la protocollazione dei documenti entro sabato 24, nel dimenticatoio anche le mozioni di sfiducia. Si va avanti con il sindaco Melucci, che si ritrova alla guida di una coalizione civica che può contare soltanto su 15 voti sicuri, due in meno rispetto alla maggioranza relativa del Consiglio, e la necessità di trovare o ritrovare ulteriori appoggi per garantire la governabilità. Da Massimiliano Sellato, presidente regionale di Italia Viva, è partito un appello alla riconciliazione, ma la raccolta di firme ha creato un solco profondo, forse troppo.